Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono PeroPlay, oggi voglio portare il terzo episodio della serie Road to God Night, sperando di giudicarcela, siamo nella mappa Monastery e questa volta prenderemo parte dei antiterroristi, quindi andiamo subito all'opera, let's go, sperando che riusciremo a... E1 è andato, E2 è andato, and let's go è andato, vabbè, i primi due sono andati, adesso la partita entra nel vivo, speriamo di fare una bella figura perché siamo in live e non ho intenzione di prepararmi una partita, quello che troviamo troviamo, quello che facciamo, facciamo, cavolo dovevo coltellarlo ed era anche un bot, perfetto, abbiamo fatto un figurone degno di... di non lo so cosa, però abbiamo fatto un figurone, let's go, sono solo bot, il che mi fa piacere, il che non mi fa tanto piacere, però sicuramente si aggiungeranno altri giocatori a breve, speriamo perché non sarebbe neanche giusto vincere una partita contro bot, let's go, e questo mi ha fatto fuori, bot, sempre un bot, sì siamo solo in due, in partita, molto buono, let's go, oddio, sono stato ucciso da un bot tutto anch'io, vabbè, andiamo all'opera e vediamo se c'è qualcosa, ora sei il leader della squadra, let's go, cosa troveremo? ho visto qualcosa, ah mi ha fottuto, vabbè, l'importante che siamo ancora primi e si stanno aggiungendo altri giocatori, ahi, liezan, sei stato gadivu, oh, non vedo nessuno, ce ne avevo uno davanti e uno dietro, il che non mi piace molto, però, ciao, cavolo, non l'avevo visto, non l'avevo visto, purtroppo può succedere di non vedere alcunché, let's go, let's go, ahia, mister, oh, zucca turca, dall'anda sei turco, ma è il che non mi fa piacere, dai, 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 ecco, ciao, amico mio, abbiamo il gali, sì, lalli gali abbiamo, c'è qualcuno qua, ahia, liezan, mi hai fatto male, partorirai con dolore, oh, qua c'è qualcuno, secondo i miei calcoli calcolosi, oh, qualcuno uscirà anche da di qua, no, ahia, mi hanno soffiato il posto, sono molto contento di questo, è che giocano tutti in difensiva, quindi tocca a me, tocca a me muovermi, morto, la grande affila, oh, un italiano, ciao grande affila, se vuoi iscriviti al canale e lasci un commento, allora, questo lo uccidiamo, easy, morto, oh, chi è questo assetato di sangue, e nessuno l'ha ucciso, bene, siamo ancora in tempo per fare qualche kill, spero, non so dove sto andando, mi fa piacere, ma che piacere, oh, guarda chi c'è qua, oh, oh, tre colpi e l'abbiamo buttato giù, eh, ti ho tirato un coso in panza e non sei morto, uh, ora sei il leader della tua squadra, let's go, e sono il leader, ah, se lo uccidevo era un grande, ma, uh, l'ho colpito, colpito e affondato, vedete, come vedete ci siamo, ci si è aggiunti tante persone alla partita, il che adesso, ah, il che adesso l'ho presa in cure, let's go, let's go, non possiamo fare una brutta fine, eh, mi hanno già superato e sono anche dall'altra squadra, uh, ah, potevo sparare subito, ma, mmm, non c'è stato modo, uh, l'hai presa in quel posticino, amico mio, come on, come on baby, l'asma, arco buono, uh, let's, let's, cerca di non ferire i tuoi compagni di squadra, lo farà prossimamente, nei cinema, dai, sei il leader della tua squadra, amico, aia, da dentro la stanza, certo, preso, mi fa mi piacere che sei morto, oi, chi è, ho visto qualcuno là, sono 11, 11, ah, mi ha soffiato il posto, uh, let's go, morto, ti meriti questo, vecchio, ti meriti, te lo meriti tutto di morire, let's go, let's go, let's go, vediamo se troviamo qualche nemico, no, è impossibile non trovare nessuno, oh, 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 ricarichiamo, perché non sto trovando nessuno, certo, state facendo sul serio, ci sono tutti rintanati dentro, no, eh, adesso so che mi freddano da qualche parte, vanno qua sopra, oh, non li becco, dove siete? Dove sono? Ah, mi ha fregato, let's go, cioè, ma dai, non è possibile, questo è qua, no, non ci credo, cioè, stiamo, stiamo regredendo, lo sapevo che andava a finire male questa partita, purtroppo, eh, me ha salvato la kill, benissimo, let's, let's, dai, sono qua, ah, non c'è andata bene, let's go con la pistolina, e loro ce ne sono già qui, morto, baffanculo, mi rusca, chi è che ha il robo dorato, uno della nostra squadra, vinceremo a breve probabilmente, let's, let's go, sì, vabbè, ma copritemi, dovete coprirmi, se no, e andiamo a vincere, ragazzi, benissimo, anche se non è andata come speravo la partita, siamo stati i test migliori, come sempre, vi invito di lasciare un mi piace e un commento, e di iscrivervi al canale, ciao, va base.